E' vero che ci sono ancora 15 partite, ma l'altra sfida in questo momento è a 10 punti alla salvezza Per una squadra che di punti ne ha fatti 11, vedi 3 giornate, recuperarli sono davvero tanti E' veramente complicato, un'operazione difficile Intanto, come promesso, andiamo a vedere il film di quanto è avvenuto in questo partito, ovvero gli highlights Siamo allo Yorker, un saluto da Paolo Cerravano, Altersfield contro Manchester City